Le scuole, che saranno certamente chiuse almeno fino alla metà di giugno, potrebbero riaprire progressivamente anche se per attività non strettamente didattiche e seppure con regole precise e controlli altrettanto rigorosi. Lo prevede un ampio documento tecnico del Dipartimento della Famiglia sulle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti. Al documento, che si basa sugli orientamenti espressi dalla Società Italiana di Pediatria, hanno collaborato in tanti, dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ed è già stato condiviso dai Ministeri dell'Istruzione, da quelli del lavoro, delle politiche giovanili, dello sport, oltre che dalla Conferenza delle Regioni e dalla Unione delle Province Italiane. Questo per significare che l'attenzione sul tema è grande e non riguarda solo il mondo della scuola. Il problema della ripresa dei servizi educativi è ormai diventato una questione centrale e non solo per motivi sociali, ma anche per una questione squisitamente pedagogica. C'è di mezzo non solo il problema di come aiutare i genitori che devono riprendere il lavoro, ma anche quello di consentire ai bambini e ai ragazzi di riprendere le relazioni sociali. Vygotsky, uno dei massimi psicologi dell'età evolutiva del Novecento, aveva spiegato e dimostrato con dati sperimentali alla mano che lo sviluppo linguistico del bambino è strettamente legato alla vita sociale e al rapporto con i pari. In questi mesi di vita sociale ridotta, bambini e ragazzi hanno dunque sofferto e il loro sviluppo ne è risultato compromesso. Il periodo estivo potrebbe quindi essere una occasione importante per recuperare almeno in parte ciò che si è perso da marzo ad oggi e potrebbe essere anche l'occasione per iniziare a sperimentare con cautela come potrebbe funzionare la ripresa di settembre. Il documento a cui abbiamo fatto cenno mette bene in evidenza che quest'anno i servizi educativi estivi, che in Italia hanno una lunga tradizione, dovranno però sottostare a regole precise in modo da garantire la sicurezza dei piccoli ospiti e degli stessi operatori. Certamente non sarà facile rispettare le regole, solo per fare un esempio all'ingresso sarà necessario seguire una procedura precisa e meticolosa, chiedere per esempio ai genitori se il bambino o l'adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratorie o se è stato male a casa. Inoltre dopo aver igienizzato le mani bisognerà verificare la temperatura corporea con un apposito rilevatore di temperatura o con un termometro senza contatto. Ovviamente gli operatori dovranno essere in numero adeguato, un adulto ogni 5 bambini in età di scuola dell'infanzia, uno ogni 7 per bambini dai 6 agli 11 anni, uno ogni 10 per gli adolescenti in età da 12 a 17 anni. Il rischio è che una organizzazione di questo tipo possa far lievitare i costi dei servizi così da scoraggiare gli enti gestori che sarebbero costretti a scaricare le spese sulle famiglie. Per la verità nel decreto rilancio sono già previsti stanziamenti e contributi sia per gli enti locali sia per le famiglie, ma è probabile che senza l'intervento del terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato sarà difficile dare una risposta ai bisogni dei bambini. E ci sono persino associazioni e organizzazioni che proprio per questo stanno già pensando di coinvolgere a titolo del tutto volontario gli insegnanti statali disponibili a realizzare progetti estivi per i minori. Sarà insomma una sorta di prova del 9. Se tutto dovesse andare per il meglio, la ripresa regolare a settembre, sulla quale sono ancora in molti a nutrire dubbi, potrebbe essere considerata con maggiore favore da parte di tutti. Bene, è un tema sicuramente importante, noi continueremo ad occuparcene, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Come al solito, soprattutto continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni e i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie. 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 Grazie.